Siamo con Don Michele Romano, parroco della parrocchia San Michele Arcangelo di Crozia. Don Michele, nei giorni scorsi una data importante per la comunità non solo parrocchiale ma anche per la comunità sociale di Crozia e dell'Interland. Il venticinquesimo anniversario delle presunte apparizioni mariane nella chiesette, nella piccola chiesa della pietà posta ai piedi dell'antico borgo Croziota. Ampia partecipazione anche quest'anno? Sì, davvero un evento di grazia che ha visto il coinvolgimento di tutte le forze politiche, sociali, religiose che sono scese in campo prodigandosi per un'accoglienza dignitosa e rispettosa di tutti questi pellegrini che da decenni ormai vengono qui a Crozia per rinnovare la loro fede, la loro devozione verso la Madonna e affidare a lei le ansie, le speranze, le gioie e le sofferenze della loro vita. Crozia sta diventando sempre più un luogo di preghiera, un luogo di conversione, un luogo dove vengono privilegiate soprattutto gli aspetti spirituali. Perciò concentriamo tutto nella preghiera, nella riconciliazione, nella celebrazione eucaristica e certamente le cose potranno sicuramente avere uno sviluppo maggiore rispetto al discernimento che la chiesa sta operando su questi eventi di Crozia. Ecco, a prescindere dall'aspetto puramente mariano, è già fra virgolette un miracolo una partecipazione attiva da parte di tanta gente che frequenta anche in maniera sistematica la chiesa della Pietà di Crozia, tante persone che oggi quotidianamente arrivano in chiesa per pregare. Sì, è davvero un filo continuo che non si interrompe mai di persone che vengono ogni giorno perché la chiesa è sempre aperta ad accogliere tutti coloro che passano e vogliono un attimo pregare. Ma il 23 è stato veramente un evento di grazia, dicevo, perché la partecipazione di almeno 5-6 mila persone mi hanno riferito che con la partecipazione alla processione del mattino, alla fiaccolata nel pomeriggio animata da me, dal viceparroco Don Claudio sono stati veramente momenti di grande partecipazione devota, silenziosa, attenta perché non c'è stato spazio per protagonismi o altro che abbiamo corretto in questi anni e stiamo cercando di rendere sempre più vero e credibile il nostro ritrovarci insieme lì nella preghiera. Ecco, da un punto di vista giornalistico interessa sapere anche un po' la partecipazione, quindi la provenienza dei fedeli, da dove sono arrivati, prevalentemente da quale regione, come sono stati accolti e chi si è adoperato per l'accoglienza di questi pellegrini. La provenienza di questi pellegrini ormai è assicurata da più regioni, dalle Puglia, alla Basilicata, alla Calabria, alla Sicilia, sicuro, ma poi tante altre provenienze che sono diversificate nell'arco dell'anno. L'accoglienza è stata curata da un comitato promotore che ha visto lavorare insieme l'amministrazione comunale, mai come quest'anno, e la parrocchia. E questo comitato ha accolto sin dalla sera precedente, dal momento della veglia, c'è stata il 22 sera, dalle 9.30 a mezzanotte, quando poi si è chiusa la chiesetta, per riaprirsi al mattino presto, e anche al mattino un gruppo di donne, di volontari, hanno offerto già la colazione. Abbiamo avuto la gioia di demolire i faticenti bagni, effettare dei bagni chimici, 10 bagni chimici, per accogliere i pellegrini. Abbiamo montato degli stand, perché la pioggia è stata minacciosa tutta la giornata, ma grazie a Dio siamo riusciti a svolgere tutte le celebrazioni. Ho ringraziato, e lo faccio anche attraverso questa intervista su Ionio Notizie, profitto per ringraziare ancora una volta l'amministrazione comunale, i vigili, i carabinieri, il comitato della Madonna della Pietà, la città pulita, che hanno contribuito a rendere dignitoso il percorso della fiaccolata, e tutti coloro che sono adoperati per rendere bella, gioiosa, accogliente la nostra giornata mariana. La giornata mariana. Dunque un'azione sinergica, un'attività fatta in maniera univoca per cercare di accogliere, accogliere coloro che nel nome della mamma celeste arrivano a Crozia. Una Crozia aperta anche al turismo religioso. Questo sicuramente è una fase di recupero per tanti ritardi che in questi anni si sono accumulati, e quindi c'è da sperare che il futuro possa veramente migliorare, e dare la possibilità a questo piccolo posto, benedetto dal cielo, di diventare centro sempre più di preghiera e di incontro col Signore. Grazie a Don Michele Romano, parroco della parrocchia San Michele Arcangelo di Crozia. Grazie.